Ciao, io sono Anai e sto finendo il primo anno del TAG e in questo corso di TAGLAB ci stiamo occupando con il mio gruppo di approfondire il progetto TrackMama di FBK perché è importante far parte di questo corso e perché è importante per il futuro perché comunque ci mette in contatto con delle aziende reali, cioè con dei clienti reali e ci fa sviluppare dei progetti concreti che poi vanno a finire da qualche parte. Questo non solo serve per imparare nel futuro come effettivamente si gestiscono i clienti, si parla con le persone e cose del genere ma anche a livello personale lavorare in gruppo, capire che tipo di profilo magari noi possiamo avere e complementare con gli altri e anche capire in che modo uno riesce a trovare la sua strada in modo migliore, insomma. Beh, le prime fasi di processo di qualsiasi progetto si parli sono le più importanti perché è quello che determina poi tutto il resto, quindi anche l'attenzione che magari noi abbiamo avuto con TrackMama di trovare un target, di creare dei profili ideali e però fittizi di per sé, questo ci permette di empatizzare con l'utente e capire meglio quali sono i suoi bisogni e quindi poi ottenere un prodotto che sia il più efficace ed efficiente possibile da dare una user experience al nostro utente del migliore dei modi, quindi fondamentale avere spazio e tempo per sviluppare bene la prima parte del progetto. È un po' una fonte di orgoglio perché una parte di te ha lavorato nel fare qualcosa che è utile per una comunità intera.